La Conferenza Episcopale e la Conferenza dei Religiosi e delle Religiose Francesi hanno ricevuto il rapporto della Commissione Indipendente sugli Abussi Sessuali nella Chiesa, incaricata di valutare l'ampiezza del fenomeno delle aggressioni e delle violenze sessuali, compiute su minori da 1950 in poi. E ne risultano, purtroppo, numeri considerevoli. Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza e il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna, la nostra vergogna, la mia vergogna, per la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterle al centro delle sue preoccupazioni, assicurando loro la mia preghiera. E prego e preghiamo insieme tutti a Te, Signore, la gloria, a noi la vergogna. Questo è il momento della vergogna. Incoraggio ai Vescovi e ai superiori religiosi a continuare a compiere tutti gli sforzi affinché drammi simili non si ripettano. Esprimo ai sacerdoti di Francia vicinanza e paterno sostegno davanti a questa prova, che è dura, ma è salutare. Invito i cattolici francesi ad assumere le loro responsabilità per garantire che la Chiesa sia una casa sicura per tutti. Grazie.